di nuovo insieme ragazzi allora oggi andiamo a creare una linea di basso una linea di walking su un accordo statico si dice statico quando un accordo dura più battute restiamo va benissimo il brano su what per chi si approccia agli standard per chi si approccia a questo tipo di walking e poiché ci sono come vedete nella struttura 16 battute di re minore 8 di mi bemolle 3 8 di re minore questa struttura completa del giro su what quindi come approcciarsi a questo tipo di walking quando un accordo appunto perdura più battute ovviamente non si può pensare di suonare 16 battute usando solo le note del dell'arpeggio eccetera quindi bisogna pensare a tutte le varie opzioni che abbiamo quindi oltre alle note appunto dell'accordo in questo caso re fa la do su re minore mi bemolle sol bemolle la bemolle e bemolle sul mi bemolle minore abbiamo detto cromatismi quindi note di passaggio cromatiche l'aggiunta di ghost di variazioni ritmiche ottavi terzine terzine di ottavi terzine di quarti poi abbiamo parlato di scale su un re minore ho diverse possibilità mi viene subito in mente le scale minori più diciamo più suonate più più famose un modo di dire però nel jazz e tendenzialmente si usa la scala dorica oppure la minore armonica che come avete visto per chi ha preso anche nel corso di armonia come la scala minore è una scala minore con la settima maggiore oppure la minore melodica che è identica però con la sesta maggiore come sentirete nell'esperienza poi che avrete nell'ambito del walking del jazz eccetera la minore naturale meno suonata quindi proviamo a costruire una linea inserendo su una base questi elementi e scegliendo le varie scale in determinati momenti del brano mando la base parto semplice 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.